Grazie a tutti. Grazie a voi. Buongiorno. Le chiedo solo il tempo in modo da essere... Ok. Allora, se siete d'accordo affronterei tre temi oggi. Il primo è il contesto energetico italiano che penso è quello che riguarda tutti e cercheremo di darvi una fotografia di com'è il mercato e il sistema elettrico italiano. Dopodiché, cosa che sta ancora più a cuore, cosa Enel, che come voi sapete è un gruppo multinazionale ma è fortemente incentrato sull'Italia. Io sono l'amministratore delegato di Enel Italia e vedremo che oltre il 50% degli investimenti riguarderanno il nostro Paese. E infine le criticità o i punti d'attenzione che vediamo a breve affinché il nostro Paese possa continuare in questa crescita sul suo sistema elettrico. Allora, questa slide, ora al di là dei numeri, ve la commento brevemente, però penso che sia molto importante, direi quasi per ogni cittadino italiano, perché ci racconta come noi in Italia ci approvvigioniamo di energia elettrica. Allora, lasciamo da parte l'import, quindi quelli 51 al di là dell'unità di misura, più che altro è importante vedere le proporzioni, che rappresenta l'energia elettrica che ancora oggi questo Paese prende dall'estero, tipicamente dalla Svizzera e dalla Francia. Dopodiché noi abbiamo una parte importante dei 306 teravattore che ci produciamo in casa, i 255. La gran parte, come vedete, il 93 ci deriva dal fatto che noi bruciamo gas, quindi quel tema che un paio d'anni fa è stata l'attenzione di tutti noi, cioè l'affermazione che siamo troppo dipendenti dal gas, poi daremo qualche dettaglio da dove questo gas arriva, o continua a essere vero, cioè come potete immaginare, se noi il 255 elevassimo i 93, capite bene che avremo un serio problema. Fortunatamente però, oltre a questo, noi abbiamo la parte che comprende il giallo, il verde, il blu e il rosso, a scendere, che rappresenta lo sviluppo che stiamo facendo sulle fonti rinnovabili. Come vedete, la parte blu rappresenta l'idro e lo affronteremo poi in dettaglio, cioè questo è un Paese dove la produzione di energia elettrica che deriva dalle dighe è importantissimo. Abbiamo poi un contributo importante sul solare e anche l'eolico si sta sviluppando. A titolo di cronaca vi cito l'ultimo tassello, quello granata, diciamo che colore, che rappresenta la geotermia, cioè noi abbiamo in Toscana come Paese dei, ve la racconti, ma è molto semplice, dei soffioni che ci consentono di produrre energia elettrica. Tra l'altro è una competenza unica che abbiamo in Italia e che abbiamo esportato anche all'estero. Il carbone, come vedete, è marginale, rappresenta 12, e tra l'altro questo ci dovrebbe consentire, se non ci sono rivoluzioni, legasi il problema del gas, di poterlo chiudere tranquillamente nel 2025. Altra considerazione importante, questo è un Paese che fortunatamente si è reso conto, ahimè, con la crisi energetica, che ha molto senso per ognuno di noi, dove quando dico ognuno di noi immaginate noi cittadini, l'imprenditore, eccetera, dotarsi di autoproduzione di energia elettrica. Quelli che vedete in i slide rappresentano i nuovi impianti fotovoltaici che ogni anno si connettono alla rete. Quindi il mio pannello, il pannello del capannone, quello sulla stalla, vengono connessi alla rete di distribuzione e consentono quindi di arricchire notevolmente la nostra produzione solare. A essere estremamente, come dire, cattivi, uno dice ben venga quello, però forse troppo, nel senso che ultimamente noi abbiamo avuto una crescita importantissima nell'installazione di pannelli fotovoltaici, però troppa parte di questo, l'80%, dipende da piccoli impianti. Che ribadisco, è un dato positivo, ma sarebbe ancora più positivo se fosse accompagnato anche dalla realizzazione di grandi impianti. Il trend è spaventoso, vedete come dal 20 al 23 si è cresciuto in maniera notevole. E aggiungerei un secondo commento che è quello che un po' mette in evidenza il cittadino italiano, che si è reso conto che effettivamente l'energia è un problema che ci coglie da vicino e può trovare delle soluzioni oltre quelle che viene dal sistema anche al nostro interno. Questo mi porta a dire, lo vedremo poi in dettaglio, che come potete immaginare c'è un grande punto d'attenzione, cioè quando la rete di distribuzione, che fino a ieri, dove ieri immaginate, 10 anni fa, 12 anni fa, era, nasceva ed era sviluppata affinché l'elettrone dalle grandi centrali andasse verso le case, ora deve essere tecnologicamente evoluta, per cui deve prendere questi elettroni e quando quell'elettrone non serve alla mia stalla, al mio ufficio, alla mia abitazione, venga rimesso nel sistema e venga riutilizzato. Tra l'altro, ancora di più in questo momento storico, dove, come voi sapete, con lo sviluppo delle CER, il nostro Paese ha chiuso tutto l'iter normativo e regolamentare proprio in questi giorni, sarà ulteriormente più accentuato. Chiudo con un numero che ci rende primi in Europa, che è quel milione e mezzo di impianti che rappresentano una vera e propria generazione distribuita, cioè piccola generazione però distribuita in tutta Italia. Abbiamo parlato di rinnovabile nella prima slide, l'abbiamo accentuata ancora di più nella seconda, qui affrontiamo un tema invece abbastanza nuovo, cioè, come potete immaginare, se noi escludiamo la generazione rinnovabile idro, che è la più nobile, la più importante, perché coniuga sia il rispetto dell'ambiente, la non emissione di CO2, eccetera, ma sia e anche e soprattutto utilizzare la programmabilità, perché le dighe, come potete immaginare, si accendono e si spengono, se escludiamo questo, il resto della generazione rinnovabile ha un unico problema, solo quello, che è la non programmabilità. Faccio un inciso, cito solo quello perché oggi, se solo volessimo fare una valutazione anche meramente economica, ci converrebbe produrre utilizzando il sole. La tecnologia, i pannelli hanno avuto ormai un costo, ritorneremo anche su questo argomento, che rende questa generazione la più conveniente possibile, al netto del fatto che non è programmabile. Non programmabile, quindi, cosa significa? Che io devo avere dei sistemi per immagazzinare questa energia. Ad oggi, questi sistemi, i cosiddetti accumuli, esistono su tre grandi dimensioni come tecnologia. Vado veloce, il primo è quello che potete immaginare il più facile, il pompaggio idro. Cioè energia, non so cosa farne, prendo dell'acqua, la porto su, dopodiché, quando ho bisogno di energia, la ributto giù, faccio girare la turbina e genero l'energia elettrica. Il secondo, la tecnologia è quella chimica, se volete, in grande, le nostre batterie a litio. È ormai una tecnologia che anche su bassa scala funziona, ed è una tecnologia che in questo momento storico è in estrema espansione. Perché? Perché mentre i pompaggi, ovviamente, come potete immaginare, hanno dei limiti ambientali, di rispetto del contesto ambientale, e quindi oggi è difficile, così come fare nuovi dighe, è difficile fare nuovi sistemi di pompaggio, sui sistemi di accumulo su larga scala, noi siamo partiti in maniera, noi come Italia, ovviamente, siamo partiti in maniera molto veloce. Fate conto che, al di là del numero, l'1,7 gigawatt che vedete in eretto, che stiamo realizzando, questo farà sì che, con la fine del PNRR, quindi nel 2026, l'Italia avrà il più grande sistema di accumulo chimico su larga scala. Dopodiché, terza considerazione, è che, ricordate che vi parlavo del 1.500.000 piccoli impianti, anche i piccoli impianti oramai vengono di fatto venduti e installati con batterie. Quindi, se voi vedete, appunto, la stalla, la casa, tipicamente vi viene affiancato dal vostro venditore, dal venditore anche un sistema di accumulo. Da un punto di vista tecnologico, faccio solo un inciso, questa è la realtà, questo è il grande piano di investimento che stiamo facendo, questo è già in rilascio, come Italia, come Enel in primissima persona, siamo impegnati nello studio di altri sistemi di accumulo di energia. Ne esistono due, anche qui cerco di farla molto semplice. Il primo è quello termico. Cosa significa? Che, ancora una volta, quando c'è surplus di energia, io riscaldo, tipicamente, della sabbia o delle rocce in ambiente termico, quando poi necessito di energia termica, immaginate le lavorazioni che hanno bisogno di acqua, quelle alimentari, un caso tipico, piuttosto che altro, prendo questa energia da questi termos di sassi e di sabbia. Il secondo, questa tecnologia è sperimentale, in Italia, come noi ne abbiamo già due, ha comunque degli sviluppi importanti. La seconda tecnologia innovativa, e ancora più indietro, però ve la cito per correttezza, è quella cinetica. Cioè, cosa succede? Quando c'è energia, vengono portati dei massi, dei pesi in altezza, e, ancora una volta, quando poi necessitiamo, li butto giù, buttando giù, come potete immaginare, scarico di energia cinetica che vengono sfruttati. Tralasciando le ultime due considerazioni, che sono, come dire, da pannaggio di tecnologi, quell'altra, cioè il piano di infrastruttura, di accumulo, è importantissimo, tant'è vero che, come vedete, il PNIEC vede circa un tre volte tanto rispetto alla situazione del 2019. Com'Enel, stiamo sviluppando questo tipo di progetti, e addirittura, lo vedremo dopo, gli investimenti fatti nella parte di generazione oggi ci vedono molto più impegnati nell'accumulo che nella generazione. Altra considerazione che mi consente poi di parlare delle reti. Un altro fenomeno che sembra non abbia a che fare con l'energia elettrica, e invece, ahimè, e lo sottolineerei tre volte, riguarda l'evoluzione o la involuzione del clima. Ora, senz'altro, non stiamo qui a disquisire quali sono le origini per cui gli eventi meteo cosiddetti estremi si siano diffusi, però un dato di fatto che si sono diffusi. Vi do alcuni dati, sicuramente colpisce il dato in Sicilia dell'anno scorso, pensate un po' che in tutte le giornate estive, l'anno scorso la Sicilia, l'82% di questo tempo ha avuto giornate di allerta per l'eccessivo caldo. Vi citerei oppure il dato generale che nel 2022, stiamo consolidando i dati nel 2023, gli eventi meteo cosiddetti estremi sono aumentati del 20%. Estrema sintesi, oggi noi viviamo in un paese dove chi fa il nostro lavoro, ad esempio progetta reti di distribuzione, ci ritorneremo, ha iniziato a utilizzare i criteri di progettazione molto più simili ai criteri di progettazione di reti a proposito di ieri africane che non di quelle a cui eravamo abituati. Non solo, ma ovviamente questo ci costringe a investire anche nella resilienza di queste reti. A proposito di questo, vediamo Enel in questo contesto che velocemente ho cercato di raccontarvi come si posiziona la primaria azienda del Paese. È buona per noi tutti italiani la prima o seconda, a secondo dei parametri che si va a vedere, azienda elettrica al mondo. Quindi è un orgoglio italiani. In Italia, come vi dicevo prima, Enel ha la gran parte delle sue attività che si traducono, vedete anche qui un po' di numeri, tra l'altro immagino che il documento lo lasceremo, vi sottolineo tra quattro numeri, a mio avviso, molto importanti. Il primo che abbiamo iniziato come Enel ha uno sviluppo delle rinnovabili che già oggi fa sì che la potenza di generazione rinnovabile, quindi quel 15 gigawatt che vedete, supera quello da generazione termica, tipicamente da gas. Il secondo dato importante è che la rete di distribuzione in media e bassa tensione, fate conto che, ora non voglio banalizzare, però almeno siamo chiari, Tern è come se gestisse le autostrade, la linea d'alta tensione. Enel, per lo più, perché la gestiamo all'85%, gestisce le provinciali, le strade comunali e via andare, quindi è la rete che fisicamente arriva a casa nostra. Se noi l'andassimo a misurare, faremo un bel viaggetto, terra-luna, tre volte, quindi una struttura molto complessa, una struttura che tra l'altro non è fatta di fili, perché probabilmente avete visto nei vostri paesi le famose cabine, fate conto che a queste sono collegate 450.000 cabine secondarie e circa 2.500 cabine primarie. Oggi non sono in grado di dirvi se sia l'infrastruttura più complessa, sicuramente l'infrastruttura più capillare arriva ovunque. Delle reti, vi ho detto, dopodiché questo ci porta a far sì che la gran parte dei clienti italiani, un circa 50%, oggi prendano energia elettrica da Enel. Tutto questo ovviamente non si ferma, tant'è vero che il piano su cui vi farò, vi darò accenno di Enel, che vede 24, 25 e 26, vede investimenti per oltre 17 miliardi, non è poca roba. Ultimi due numeri che devono stare a cuore a tutti gli italiani e le persone che lavorano con Enel, noi siamo circa 30.000, come è in Italia, e l'indotto che generiamo, quindi le imprese che lavorano con noi, che lavorano per noi, fatturano un pochettino meno di 8 miliardi. Quindi è una realtà che, oltre ad essere una realtà industriale, a nostro avviso, di primissimo ordine, è anche una realtà sociale molto molto importante. Vi dicevo come con questo piano, quindi il piano 24, 26, non solo è stata ribadita l'importanza dell'Italia, ma è stata incrementata. Lo vedete soprattutto nella parte in basso a sinistra, dove l'azzurrino vi racconta gli investimenti che stiamo facendo in Italia. Stiamo parlando del 50%. A titolo di cronaca, poi abbiamo una quantità di investimenti relativamente importanti in Spagna, dove siamo una piccola Enel, sicuramente siamo l'operatore di riferimento, e poi siamo distribuiti nel resto del mondo, il più grande di quel grigio è il Brasile. Tornando sulla torta di su, torno a quell'argomento che vi citavo prima, cioè le reti. Le reti, come vedete, hanno un contributo molto molto importante negli investimenti che faremo. In Italia sarà ancora maggiore, lo vedremo. Tutti il resto sostanzialmente sono batterie e nuove centrali, e sostanzialmente sono nuove centrali da rinnovabili. O vento o sole. In Italia vorremmo spingere, rispetto al passato, un po' di più sul vento, ma per un motivo molto semplice, perché le ore di produzione di centrali eoliche sono maggiori rispetto a quelle a quelle solari. Andiamo avanti. Facciamo un breve spaccato sull'Italia. Vi dicevo prima che rappresenta la country, la nazione di riferimento. Vi dicevo prima che vuoto per pieno il 50% di quello che facciamo come azienda viene fatto in Italia. da un punto di vista di investimenti si traduce in 17 oltre miliardi che investiremo in questi tre anni. Anche qui, vi facevo un cenno prima, in Italia, ancora di più che nel resto del mondo, riteniamo sia indispensabile investire sulla rete. Tanto è vero che circa i due terzi, un po' più dei due terzi, e gli investimenti verranno fatti sulla rete proprio per quei ragionamenti che si raccontavano prima. È un Paese che ha accolto l'opportunità della generazione distribuita, è un Paese che ha accolto la maturità, la sensibilità di noi cittadini di dotarsi di sistemi di autoproduzione. Questo può essere fatto se soltanto se, come direbbero, come si dice in gergo, questa rete ha una grande capacità di hosting, cioè di ospitare capacità di generazione. affiancata sempre, lo ribadisco per la seconda volta, a una evoluzione tecnologica chiamata la resilienza o quello che è, che deve far sì che questa rete deve essere in grado di supportare eventi meteo che fino a ieri, fino a dieci anni fa, fino a vent'anni fa, erano del tutto sconosciuti. Tra l'altro, a titolo di cronaca, sappiate che è molto più dannosa per un'infrastruttura quale è la rete di distribuzione il caldo che il freddo. Noi spesso veniamo colpiti dal fatto che arriva la nevicata e succede, non so, crolla un albero che magari interrompe un cavo, per carità, è una cosa che avviene, però mai è critico quanto l'eccessiva ondate di calore. Anche perché, come potete immaginare, già il flusso dell'energia elettrica genera calore, se a questo si aggiunge dell'ulteriore calore prevenente dal meteo, è peggiora. qui vi illustriamo come quello che vi raccontavo è vero, siamo passati a un piano che vedeva tre anni passato, poco meglio di 15, oggi oltre 17 miliardi. Per far questo, o parte di questo, con i 17,2 miliardi, abbiamo attinto al PNRR, quindi l'Europa ci ha riconosciuto come Enel la capacità di utilizzare bene questi fondi, la grandissima parte di questi, ancora una volta, indovinate dove vanno, sulle reti, dei 3,8, 3,5 fanno sulle reti. Dopodiché, c'è la fabbrica di Catania, la conoscete, mi fatemi fare un inciso, questo è molto importante. Cosa rappresenta Catania? Catania è la fabbrica dove vengono realizzati dei pannelli fotovoltaici. Vi dico subito che nell'attuale contesto Catania sarà per Enel un esempio isolato per un motivo molto semplice, perché uno, noi non siamo dei manufacturing, cioè non produciamo industria, vogliamo fare bene l'operatore elettrico in maniera eccelsa, ma quello siamo, e secondo, lo vedremo dopo, oggi generare, impiantare, stabilire una produzione di tecnologia rinnovabile in Europa non è facilissimo, avendo i cinesi dall'altra parte e con, come dire, un sistema che non garantisca questa attività. ed è un problema questo, perché noi rischiamo di passare da una dipendenza energetica a una dipendenza tecnologica. Altre robe, poca roba, le avete un po' di mobilità elettrica o altro ancora. Estrema sintesi, un periodo che ci vede grandemente impegnati, il sistema elettrico di questo paese anche grazie a Enel cambierà in maniera radicale, tanti numeri, non posso non citarvi l'aumento di capacità rinnovabile compreso la batteria, non posso non citare seconda riga, il trend che noi siamo convinti continuerà della crescita dei piccoli impianti, di quelli famosi fotovoltaici che vi raccontavo. Ovviamente ultima riga, siamo part attiva finché la mobilità elettrica, per carità, con tutti i limiti, con tutti i cavi, con tutta la discussione attualmente nel nostro paese presente, andrà avanti. Ciudo, per poi lasciare alle vostre considerazioni e alle vostre domande, con tre o quattro punti di attenzione, cioè noi abbiamo, ho cercato di darvi una fotografia del sistema, di quello che fa Enel, cosa noi vediamo da attenzionare o di critico. Scusate, sono andato avanti. Allora, il primo, l'avrete capito, allora, io penso che sia ormai bagaglio non nostro, ma anche dell'ultimo cittadino italiano, che è la generazione idro, è la cosa più nobile, più ricca, più preziosa che questo paese ha. Purtroppo, ci troviamo in un contesto dove, a fronte di mille discussioni, a fronte anche di una condivisione piena, fatta col Mase, per un impegno preso da un precedente governo, noi purtroppo non siamo in grado ora di dire, o meglio, le nostre regioni non sono in grado di dire, caro concessionario uscente, hai lavorato bene, sediamoci a un tavolo, definiamo un piano, affinché questa concessione in essere, che sia Enel, che sia Edison, che sia 2A, metteteci chi volete, possa essere ulteriormente prorogata, rinnovata, chiamatela come volete. Questa è una cosa assurda, uno concettualmente, però, uno potrebbe dire, vabbè, concettualmente assurda, però la legge è quella. No, la cosa bella è che in Europa siamo gli unici, cioè, siamo gli unici a prevedere obbligatoriamente degli strumenti competitivi per il riassegno delle concessioni. Vi rendete conto che questa è una soluzione asimmetrica paradossale, cioè, noi, come Enel, faccio un esempio, non possiamo andare a fare delle gare per prendere la concessione in Francia, in Germania, in Svizzera, l'abbiamo fatto e ci hanno cacciato, mentre, con l'attuale regolamentazione, il francese, il fondo arabo, il fondo cinese può venire e bidare. Tra l'altro, alcuni dei soggetti che vi dicevo, avendo capacità finanziarie infinite, e immagino che tutti voi pensiate a cosa sto pensando, possono venire, mettere sul tavolo qualsiasi importo e prendersi la concessione. Questo significa dare all'estero, a un soggetto terzo, una risorsa preziosa, come ve la raccontavo. Tra l'altro, tenendo presente che noi, ma lo fanno tutti, per carità, noi e tutti gli altri operati italiani, nella gestione dell'idro abbiamo una visibilità di paese, per cui l'anno scorso, facendo un esempio, quando ci venne chiesto di, nonostante non avessimo bisogno, di svasare le righe, di produrre energia elettrica, in quel momento lo necessitava per dar acqua ai territori, l'abbiamo fatta. Capite che quindi questa è una delle cose che, sicuramente come Enel, ma ancora di più come italiani, deve essere messa sull'attenzione di tutti. Sulle reti, ve l'abbiamo raccontata tutta, stiamo andando, direi bene, molto bene, abbiamo già preso l'anticipo dell'Europa, abbiamo preso la prima tranche, ci sono tre punti sui quali vi sensibilizzo. Allora, inizio dal terzo che è più semplice, ancora una volta, come spesso, purtroppo accade il sistema di rendicontazione affinché si acceda e si maturi il diritto al fondo PNRR è estremamente complesso, fate conto che immaginate dover fare 15 miliardi, scusatemi, 12 miliardi di questi investimenti è una rendicontazione che deve essere fatta su singolo lavoro, su singolo operario, su singola ora. Quindi, che risulta? è una vergogna, è inimmaginabile. è inimmaginabile. E quindi, qui stiamo cercando di trovare una soluzione che sia più ragionevole. Perché, se no, rischiamo di avere più persone a rendicontare che non a lavorare. il secondo punto e questo è importante è che il PNRR lavora per importo. Per cui, quando noi siamo partiti, avevamo un contesto dove, faccio un esempio, con un euro potevi fare una cosa. Oggi, purtroppo, a seguito dell'inflazione, con lo stesso euro fai meno. Quindi, ci troviamo nell'imbarazzo di dire che dobbiamo trovare la maniera affinché, se è vero che quello che abbiamo deciso di fare era giusto farlo, purtroppo, non è sufficiente un euro, ma abbiamo bisogno di un euro virgola 8,7 e quindi tener conto dell'inflazione. Ultimo aspetto sul quale stiamo cercando di venirne fuori, che è un po' paradossale, direi quasi tipicamente italiano, ve lo racconto in maniera più semplice possibile, è che, ve la semplifico proprio, affinché si abbia diritto ai fondi PNRR, i contratti che legano il committente, lea nella situazione con le terze parti per la realizzazione dei lavori, devono giustamente tener conto di alcuni vincoli che sono la correttezza, la gender parity, eccetera. Questo va bene, però non ci consente ad oggi di sfruttare dei contratti fatti in maniera precedente che avrebbero il grande vantaggio di farci partire più velocemente, perché chiaramente un conto delle gare che sono partite sei mesi fa, otto mesi fa, un conto è gare che sono partite in maniera precedente. Quindi quello che stiamo noi chiedendo al sistema è dire benissimo, gestiamo questo transitorio, tutte le nuove gare verranno fatte ovviamente con tutte le indicazioni che ci vengono dalla nuova modalità contrattuale, però consentiteci di utilizzare anche i vecchi contratti, ovviamente assegnati con gara, in modo che velocizziamo la messa a terra di tutte le realizzazioni sulle reti. In basso, vabbè, comunque vi dà l'idea di quanto importante sia quello che faremo sulle reti. Sulle rinnovabili, che per l'Italia, ve lo accennavo prima, hanno un peso molto importante, le batterie, ancora una volta chiediamo una facilitazione di permitting. qui siamo reduci da una cosa positiva e ve la racconto. Quando parlavo di PNR sulle reti, tenete presente che la gran parte o buona parte dei lavori riguarda le cabine primarie, perché poi, come dicevo, non sono solo cavi. Noi, prima dell'ultimo decreto del MAS per fare una cabina primaria mediamente di sola autorizzazione, quindi prima ancora di mettere il primo mattone, avevamo necessità di 17 mesi. Fortunatamente è stato superato per cui oggi abbiamo un ITER autorizzativo più snello. La stessa cosa chiediamo, ma ancora una volta oltre che come è come italiani, che venga fatto anche su altre attività di permitting, ad esempio sulle batterie. Infine, dettaglio però importante, nella definizione di come si muove il mercato italiano, è opportuno che affinché si sviluppino capacità di batterie, venga contemplata la possibilità di fare contratti a lunga scadenza, i cosiddetti PPA. Perché è importante? Perché è chiaro che facendo questi investimenti, stiamo parlando di milioni e milioni di euro, deve essere data la possibilità e il sistema, anzi, la deve incentivare di legare quell'impianto con la fornitura elettrica, con la fornitura di elettricità, un dato cliente per più tempi. Qui in Italia un po' la normativa, un po' per carità, anche la nostra mentalità non è all'avanguardia, però pensiamo che sia lo strumento notevole affinché si investa in maniera forte in questa direzione. Su questo abbiamo detto guardate quel 105%, il 105% è un numero che dovrebbe preoccupare noi italiani e tutta l'Europa. Cosa è successo? È successo la seguente cosa, noi abbiamo avuto fino a un annetto fa circa una competenza molto aggressiva da parte dei cinesi sui pannelli. Dopodiché gli Stati Uniti, anche qui la conoscete meglio di me non entri nei dettagli, ha reso molto o meglio meno conveniente ai cinesi vendere pannelli negli Stati Uniti. Cosa è successo? Che questi pannelli sono arrivati in Europa. Per cui rispetto ai prezzi già bassi che avevamo oggi noi stiamo subendo un'aggressione enorme. Per cui tutta quella produzione forte anche dei margini che le aziende cinesi ma non perché ce l'abbia contro i cinesi ovviamente che hanno fatto stanno scaricando questo materiale con prezzi a livello di dumping quindi sotto prezzo in Europa. Questo fa sì che quella scintilla che era partita Catania era uno di questi di voler realizzare una industria della tecnologia energetica rinnovabile di cui abbiamo sentito parlare dei mesi precedenti oggi è a rischio. Cosa fare? Beh sicuramente c'è da fare una riflessione. È stato fatto un primo passo cioè il registro delle tecnologie per le fotovoltaiche cos'è oggi esiste un registro dove se tu produci pannelli fotovoltaici con certe caratteristiche in Europa vieni iscritto a questo registro. Questo è un primo tassello il secondo tassello potrebbe essere ad esempio da domani se non sei iscritto a questo registro brutta parola hai un dazio hai una penalità però questo è un tema è un tema che c'è sempre stato ma forse non tutti sanno che oggi sta diventando da drammatico a tragico perché alcuni mercati per i produttori atatici si sono chiusi legacy gli Stati Uniti e quindi scaricano in Europa e quindi rendono più difficile l'imprenditoria europea a realizzare questo tipo di impianti perché andrebbero fuori mercato immaginate il costo dell'energia il costo della manodopera e compagnia bella detto questo a voi la parola dubbi curiosità domande Presidente grazie al Presidente ci ha fatto una illustrazione completa rispetto al sistema energetico di Enel sia per quanto riguarda l'investimento la distribuzione ma anche le difficoltà operative e le normative che eventualmente noi dovremmo proporre per cercare di cambiare migliorare e facilitare con l'azione di Enel e lo faremo attraverso dopo avremo finito il ciclo delle audizioni lavoriamo su una risoluzione da portare in Parlamento perché credo sia fondamentale che noi facciamo delle proposte importanti al Parlamento e quindi anche al Governo e non solo quello che ha detto qualche collega prima nella discussione che abbiamo fatto prima sul decreto che siamo in esame mi ha chiesto la parola ai stati potenti la ringrazio la ringrazio Presidente prendo spunto da alcune delle riflessioni che appunto lei ha permesso di esporci e una riguarda chiaramente una discrasia fra due fonti che riterrei fra virgolette programmabili quella del geotermico e quella dell'idroelettrico con due diverse storie qui per l'appunto avevamo sotto mano proprio pochi minuti fa insomma il testo del decreto energia articolo 3 lettera A insomma lettera B che modifica appunto l'articolo 16 della legge che appunto 16b piano pluriannale per la promozione degli investimenti e vi permetterebbe dato che di fatto Enel Green Power è l'unico soggetto sul mercato almeno ad oggi insomma che può gestire il sistema geotermico nell'area dalla quale provengo è ovvio che diverso è il discorso invece che ci troviamo a dover affrontare sul idroelettrico essendo appunto due fonti di approvvigionamento chiamiamole ben più programmabili che non le altre lei ha toccato anche il tema appunto del permitting sulle batterie io volevo chiederle che tipo di aiuto potrebbe darci il sistema ecco della tecnologia afferente alle batterie per risolvere il problema l'annoso problema diciamo della differenza fra tensione e potenza cioè quello che purtroppo assilla il tema delle rinnovabili eolico fotovoltaico cioè come potremo in qualche modo ecco arricchire dal punto di vista tecnologico questo punto anche con un po' le semplificazioni normative del caso andando ecco a qualche modo attenuare questa difficoltà di gestione di programmazione delle due altre fonti che le citavo raccogliamo prima due tre a senatore Irto prego sì intanto grazie complimenti per l'esposizione e per la chiarezza io ho due domande intanto sul sul piano strategico e l'investimento di oltre 17 miliardi se c'è la possibilità di avere un focus degli investimenti regione per regione se non ora anche magari dandoci poi i documenti per poter capire perché comprendo e diciamo plaudo diciamo positivamente vedo positivamente l'aumento del da quasi 15 miliardi a oltre 17 miliardi quindi c'è un salto di investimenti se abbiamo la possibilità di poter definire investimenti regione per regione poi le altre due domande si legano entrambe alla politica estera di Enel la prima riguarda rispetto agli accordi con il presidente argentino Milei e la volontà mi pare di non dismettere gli asset in Argentina c'è una motivazione c'è già un accordo c'è già una chiarezza del rapporto tra Enel è quello Stato oppure no e la seconda domanda che riguarda sempre la politica di investimento estero di Enel noi abbiamo vissuto tre giorni diciamo di passione se non altro mediatica sul cosiddetto piano Mattei in cui il provvedimento in aula noi l'abbiamo approvato diceva delle cose ieri con l'incontro con gli stati africani ci è stato spiegato dai giornali che ci sarebbero oltre 5,5 miliardi di investimenti ecco Enel rispetto al cosiddetto piano Mattei rispetto al cosiddetto monte di investimenti che il governo metterebbe Enel in questa partita c'è attualmente ci potrà essere è coinvolta ha già un'idea su come entrarci oppure no grazie Senato Rito adesso il Senatore Basso grazie Presidente anch'io mi collego ai colleghi e ringrazio per l'esposizione che è stata di grande interesse per comprendere quella che non è solo diciamo una società fra le varie ma è una delle società che nel nostro paese rappresenta molto in termini di capacità del sistema energetico io volevo chiedere un approfondimento anch'io anche successivamente non in questa seduta ma se poteste farcelo avere per i lavori poi della commissione a cui faceva accenno il presidente e in particolare su tre aspetti il primo era quello che riguarda la portualità so che è un tema non centrale però è centrale per il paese e c'è il grande tema con gli investimenti fatti al PNRR del Cold Ironing per la possibilità dell'approvvigionamento energetico delle navi in porto sia grandi navi merci ma anche e soprattutto quelle penso ai traghetti e al nave da crociera che hanno un problema di compatibilità soprattutto nei porti afferenti alle zone urbane che è quello appunto dei fumi che rendono a volte difficile questo rapporto tra città e porto e su questo ci sono i forti investimenti del Cold Ironing il sistema il cluster portuale però ha una difficoltà che è quella appunto dell'approvvigionamento e in molte realtà c'è come dire questo tema della difficoltà dell'approvvigionamento a prezzi competitivi e anche dell'approvvigionamento in maniera intensiva durante le fasce orarie che servono dell'energia elettrica all'interno del sistema portuale quindi volevo chiedere se su questo c'è da parte vostra qualche iniziativa qualche piano per supportare il sistema Italia in uno comunque dei settori strategici per il paese il secondo è un altro tema di nuovo un focus che vi chiederei che è su quello delle tecnologie noi stiamo svolgendo in questa commissione un focus particolare sull'utilizzo delle tecnologie sul tema del trasporto e la logistica ma le infrastrutture elettriche è a tutti gli effetti una delle grandi infrastrutture critiche del paese e voi ricordavate il tema di come i cambiamenti climatici espongono l'infrastruttura sicuramente anche a fenomeni per cui la sicurezza va garantita e probabilmente anche di come cambia la dispersione energetica nelle reti con l'abbassamento e l'alzamento delle temperature ecco volevo capire se c'è un progetto se ci sono dei programmi sempre da parte di Enel per sia il monitoraggio e la sicurezza delle infrastrutture critiche ma anche per l'adeguamento delle infrastrutture rispetto alle tecnologie digitali nuove tecnologie per aumentare l'efficienza sono già tanti ma ancora un terzo focus che è quello in particolare che avete portato in maniera così forte forse voi per primi che è quello della capacità di immagazzinare e quindi questi progetti che sono fondamentali anche rispetto a un'eventuale evoluzione e transizione verso una maggiore l'utilizzo dell'elettrico e anche su questo volevo chiedere se eventualmente potevate farci avere se ci sono progetti pilota su nuove tecnologie che consentano appunto l'immagazzinamento in particolare da fonti rinnovabili per poi l'utilizzo nelle capacità chiudo facendo la stessa domanda che ho posto anche i vostri colleghi di Eni venuti qua in audizione che è quella sebbene appunto siate una società ma come loro rappresentate qualcosa in più di una delle tante società del mercato se poteste farci avere come commissione anche una declinazione di queste vostre proposte nei vari settori avete parlato approfonditamente dell'idroelettrico ma anche dell'aumento rispetto alle rinnovabili di quelle che potrebbero essere delle modifiche normative o degli strumenti che consentirebbero secondo voi un miglioramento per l'intero sistema paese quindi non solo per voi in quanto azienda ma per tutto il sistema energetico del nostro paese grazie grazie rispondiamo a prima questo via allora iniziamo iniziamo dalla fine allora sicuramente sì nel senso che le proposte normative a cui lei faceva riferimento sono correttissime sono giustissime siamo sempre stati pronti a farle e vi aggiorneremo vi faremo avere alcune indicazioni poi chiaramente sarete voi liberi di come da un punto di vista regolatore normativo alcuni degli aspetti critici che abbiamo visto possono essere superati quindi non non vi nascondiamo che ad esempio la norma sulla quale noi pensiamo si possa trovare una giusta sintesi sull'idea elettrica è una norma che abbiamo contribuito a redigere a riflettere con il ministero con l'autorità e compagna bella quindi sicuramente sì a proposito di materiale penso non ci siano problemi a farvi avere la declinazione di 17,2 miliardi sulle regioni fermo restando che chiaramente come potete immaginare è indicativo perché poi ci sono tre anni deve essere verificato tornando visto che parlavo all'idro sì tra l'altro effettivamente questo che diceva il vostro collega è corretto e c'è anche una simmetria rispetto a come si sta affrontando la questione geo rispetto alla questione idro dopodiché ci viene detto come italiani neanche prima che come Enel che mentre la generazione geo non è stata espressamente messa come uno dei vincoli per ottenere fondi PNRR quella idrosi però onestamente è abbastanza un controsenso perché sono molto molto simili sempre riprendendo quello che diceva il collega sulle batterie anche qui stiamo redigendo e abbiamo già fatto una proposta per l'accelerazione affinché l'installazione di queste batterie avvenga nella maniera più veloce possibile fate conto che un giga e sette di batterie è una quantità enorme cioè oggi fate conto che ragioniamo sui 200 170 quindi è una grande crescita tra l'altro la gran parte di questa andrà su siti che già oggi hanno degli impianti elettrici nonostante questo e purtroppo siamo un paese dove sulla parte per meeting siamo complicati però stiamo redigendo delle nostre indicazioni affinché si colga l'obiettivo che dicevate poi tecnologie di rete allora lo accennavo prima vi do questo dato perché così cerco di darvi anche qualche dato quello del Saidi un secondo così ve lo commento eccola qui allora sì oggi noi siamo nella necessità di cambiare la nostra maniera di progettare le reti perché effettivamente ci troviamo in un contesto geografico che sembra essere molto più vicino all'Africa che al nostro quindi stiamo cambiando e i cambiamenti si vedono quel termine astuso che voi vedete Saidi racconta i minuti medi medione del pollo ovvero è che abbiamo in Italia come vedete noi abbiamo un impegno che fa fronte a quello che diceva lei di diminuirlo questa è la come dire prova più provata che non solo stiamo investendo nella diffusione ma anche nella qualità tenete conto che questo 46 qualche anno fa si reggeva 90 quindi è un percorso che stiamo facendo e siamo convinti che continueremo a farlo dovendo però cambiare la modalità con cui si progettono le reti sul piano Matteo onestamente oggi se voi andate a vedere il piano che abbiamo presentato a novembre non ha nulla di specifico indirizzato sul piano però è ovvio che l'interlocuzione con il governo con il ministero è continua per cui non escludo che un domani si possa trovare un aspetto dove si possa anche noi dare il nostro contributo sull'Argentina c'è poco da dire le cose sono così in divenire per cui non vedremo sicuramente questa è un'indicazione che è venuta fuori dalla presentazione del piano rispetto al passato il nostro piano ha un piano che da un punto di vista di investimenti ha due caratteristiche leggermente diverse uno vogliamo avere vogliamo investire dei soldi avendo una certezza maggiore nel ritorno chiaramente quando uno investe c'è una quota percentuale aleatoria noi vorremmo indirizzare visto che le risorse sono finite quegli investimenti dove il ritorno è più certo e due avere un tempo di ritorno dell'investimento un po' più breve rispetto al passato in quest'ottica leggete quello che è noto che stiamo rivedendo la partecipazione in alcune country alcune nazioni abbiamo deciso di venire fuori proprio per questi due motivi che vi raccontavo portualità allora correttissimo ci sono sui porti due tipi di step il primo è il cold ironing cosa significa che quando le grandi navi immaginate soprattutto le navi da crociera arrivano in porto queste navi per funzionari bruciano gasolio per fare l'aria condizionata per cucinare eccetera il primo passo è far sì che la banchina del porto sia in grado di fornire energia elettrica affinché queste attività possano essere fatte con energia elettrica qual è il rallentamento il limite il punto di attenzione che abbiamo sul cold ironing sono due uno tecnologico che stiamo risolvendo tipicamente immaginate cosa voglia dire in un porto che è abituato ad avere una potenza per avere il motoscafo eccetera avere una richiesta di potenza di queste dimensioni e quindi ci stiamo focalizzando e su alcuni porti lo stiamo facendo l'aggiornamento della rete nella fattispecie tipicamente la gabbina primaria in grado di erogare potenza nettamente superiore rispetto al passato c'è poi un aspetto legato all'economico cioè che il sistema quindi l'autorità non ha ancora definito che tipo di tariffa perché effettivamente quello diceva è molto corretto cioè in questo contesto quanto è quanto sarebbe giusto che debba essere pagata l'energia elettrica tutti i due temi però il primo affrontato in generalizzazione in alcuni porti il secondo in via di definizione con l'autorità poi direi nulla mi sono dimenticato qualcosa secondo round più che domanda una richiesta di informazioni nel senso che l'amministratore prima ha citato la norma fatta sulle concessioni dell'idroelettrico a cui le regioni dovevano legiferare a loro volta rispetto ai nuovi bandi se era possibile avere Presidente un prospetto regione per regione di quali sono le situazioni dove l'Enel è concessionaria e quali sono le situazioni rispetto al se ci sono nuovi bandi se l'Enel ha ripreso le concessioni e così via per avere un'informazione un po' più precisa perché l'idea di quella norma anche se non era un governo che ci apparteneva come un fratellitare era nell'ottica proprio del federalismo fiscale cioè rinviare alle regioni una serie di ristorno di risorse proprio che derivavano dalle concessioni dell'idroelettrico questo era il senso se non ricordo male però l'amministratore l'ha presentato in maniera diciamo estremamente allarmante quindi vorrei avere un confronto nazionale nel senso qual è la situazione a livello nazionale verificare qual è l'andamento dei nuovi rilasci di concessioni e soprattutto quali sono i vantaggi per le regioni a questo punto grazie sono altri colleghi che intendono intervenire prego Trevisi sì grazie allora io avevo un paio di questioni uno sul sul mercato tutelato perché io sono a favore del mercato libro per carità ma lo sono a favore soprattutto per chi ha grossi consumi pensate la nonna che deve andare sul sito e scegliersi l'offerta migliora a me questa cosa terrorizza io escluderei i piccoli consumi da questa follia perché pensate milioni di italiani che magari hanno consumi di 50 100 euro a bimestre si devono andare a scegliere un fornitore preferivo veramente la vecchia e nel diciamo pubblica che comunque dava pari condizioni a tutti piccoli utenti in qualunque zona d'Italia almeno sapevamo che tutti pagavamo l'energia in maniera uguale anche perché io sto vedendo delle bollette del gas allarmanti mi stanno mandando bollette del gas che tutto compreso arriviamo a 3 euro standard metro cubo e sono enel poi ve le faccio vedere c'è un'anomalia a queste cose il gas è crollato com'è che state fatturando a 3 euro standard metro cubo pure a casa mia 200 standard metri cubi l'ho pagato 600 euro infatti ho dovuto cambiare enel perché oggettivamente mi sono adeguato anche io al mercato al mercato libero io sono un po' più tecnologico per via dell'età però dobbiamo mettere delle soglie un po' come i tasti di usura se poi questo prezzo finale supera certi limiti basta che io ci vedo un grosso rischio per i piccoli utenti per gli utenti fragili invece no assolutamente a favore per chi ha delle soglie di consumo di un certo livello quindi io sono a favore del mercato libero ma deve avere un senso cioè non deve essere le persone che comunque hanno dei piccoli consumi preferivo il vecchio modello per quanto invece riguarda una cosa che Eni non ha detto Enel ha detto ha detto una cosa che comunque ormai è un dato economico importante che l'energia solare è la più economica di tutti anche del nucleare del fossile oltre a non inquinare è anche la più economica Enel lo certifica e quindi io mi vedo con questi suoi dati quello che noi dovremmo fare invece non dovremmo rinunciare a quei 3 giga di produzione fotovoltaica che volete fare a Catania ma dovremmo come governo consentire nei bandi l'installazione di quegli impianti se sono solo di fabbricazione europea quindi noi dovremmo dare uno sbocco a quello che voi state producendo escludendo i cinesi che oggi hanno dei prezzi molto bassi ma questa cosa che noi dovremmo fare io sono d'accordo su quello di escludere dai bandi pubblici i moduli fotovoltaici di provenienza cinese quindi dare spazio a voi che poi sarete il più grosso produttore di impianti fotovoltaici lo dovremmo fare nel nostro interesse ma anche perché effettivamente ormai i moduli fotovoltaici costano tra poco li vendranno al tabacchino costano veramente poco stiamo parlando che 3 kilowatt li porti a casa con meno di 500 euro quindi stiamo parlando di pressione niente di ridicoli però questo non è ecco è l'unica cosa che non mi trovo d'accordo su quello no solo di moduli logico quello non mi trovo d'accordo che noi non passeremo da una dipendenza di fonte a una dipendenza tecnologica perché perché il semplice fatto questi moduli durano 30 anni l'energia la bruci e finisce là quindi la compri una volta acquisito il modulo anche se è di provenienza cinese che dura 35 anni capite bene che comunque tu produci con quel modulo che è costato oggi il 10% considerate un pianto da 3 kilowatt che costa 5 mila euro la quota che va alla Cina è solo il 10% tutto il resto sono inverter il guadagno dell'installatore supporti cavi e così via e componentistica varia quindi capite che non è che se noi facciamo fotovoltaico diamo quelle 5 mila euro alla Cina ma diamo solo il 10% il 95% resta in Italia quindi io credo che queste sono leggi che ho già presentato noi dovremmo fare questo dovremmo fare una massiccia massiccio investimento coinvolgendo anche l'Europa per solarizzare tutti i tetti tutti i case io ho già scritto queste norme l'ho presentata non stanno mai discusse probabilmente però ci sono di case industrie facendo partecipare solo moduli di provenienza europea e qui dovremmo anche lavorare in Europa in tal senso e poi dare delle concessioni perché qua non esistono solo i privilegi per i balneari anche no come dicevo giustamente perché i balneari si e voi non capite c'è una differenza tra voi balneari al massimo mettere due ombrelloni anche sulla diga magari vi trattano meglio allora anche lì ma dobbiamo allargarle di più le concessioni noi abbiamo parcheggi abbiamo i terreni intorno le autostrade noi dovremmo darvi queste zone per fare i parcheggi fotovoltaici magari con moduli prodotti da Enel e dovremmo darvi concessioni 50-60 anni perché è inutile andiamo a occupare terreni agricoli quando abbiamo tanta superficie già antropizzata quindi le idee ci sono però mentre da parte vostra ho visto veramente la voglia ho visto anche che le esigenze aziendali spesso coincidono anche con quelle del nostro paese magari su Enel ho visto più degli obiettivi tipicamente aziendali biocarburanti e così via ma con i biocarburanti che copriamo? è il solare è il solare che fa la grossa fetta su cui dobbiamo puntare e dobbiamo dare a chi come voi sta producendo moduli fotovoltaici la possibilità di avere quel giusto profitto non è il straprofitto ma il giusto profitto sì ma non ci fa niente Presidente con i biocarburanti non ci copri nulla non ci copri nulla ma i consumi sono così alti Presidente per produrre i biocarburanti tu non avresti più superficie agricola non dobbiamo più mangiare per produrre i biocarburanti eccetera ho apprezzato molto di più la visione di Enel e di quella di Enel allora io volevo due chiarimenti così per me per fare poi la risoluzione la produzione di batterie che fai nel che diciamo cosa vuole arrivare oggi voi lavorate solo su quella a litio che sono quelle che hanno più lunga durata perché sono quelle a sale che però hanno una durata minore magari non incendio ma hanno una durata una resa molto inferiore rispetto a quella a litio giusto? una durata media di 15 anni la domanda è allora i numeri di crescita erano presenti qui ora li recuperiamo subito e ve li faccio vedere per vedere il tipo di crescita dopodiché eccoli qui vedete qui la crescita quindi esattamente come diceva lei Presidente la volontà con cui facciamo dove vedremo queste nuove tecnologie tipo quella sale piuttosto che il litio evoluto eccetera nella parte azzurrina cioè oggi realisticamente gli accumuli sull'utility scale viene fatta tipicamente con litio noi stiamo lavorando non produciamo batterie questo che sia ben chiaro però ogni qualvolta decidiamo di mettere giù un impianto facciamo scouting su tutto il mercato per vedere qual è la migliore soluzione con il miglior rapporto qualità prezzo per cui quello che le diceva noi lo stiamo monitorando attentamente sicuramente se ci trovassimo a parlare qui fra due o tre anni probabilmente parleremo del sale piuttosto che di altro questo vale sicuramente per l'azzurro ma vale forse ancora di più sulla parte rossa perché sulla parte rossa essendo dimensioni più piccole alcune tecnologie che oggi sono non dico sperimentali ma quasi potrebbero già messe giù questo è un'altra domanda qual è la differenza di costo tra una produzione di un pannello solare con le stesse caratteristiche qui in Italia e una che proviene dall'estero allora anche qui andiamo alle medie vi faccio vedere questa slide qui ad oggi a fine del 2023 vuoto per pieno noi ci troviamo a competere con una differenza di costo del 105% cioè in altre parole noi costiamo il doppio questo per carità può essere parzialmente come dire giustificato dal fatto che tipicamente in generale parlo sempre di me la tecnologia europea ha maggiore prestazione vi do un numero un pannello medio cinese ha un'efficienza del 20% che significa che io prendo 100 come energia luminosa e 20 viene trasformata in energia elettrica catania per dirvene una parte già subito con un'efficienza del 26% e siamo confidenti che a fine di realizzazione della fabbrica rasenteremo il 30 ciò non di meno però se fate due conti con la calcolatrice vi rendete conto che non riusciamo a calmare questo gap prendo altri due argomenti uno quello delle concessioni allora cerco di riassumere forse sono andato un po' troppo veloce sulle regioni le non regioni allora ad oggi le regioni hanno ad oggi e poi mi raggancio le balneari tre modalità con le quali possono riassegnare la concessione o fanno una gara o fanno una società pubblica privata oppure un project financing la nostra proposta è non tagliarle dare alla regione la possibilità di avere una quarta modalità qual è quella quarta modalità io mi siedo col concessionario e gli dico one to one affinché tu hai un rinnovo di concessione una proroga di concessione devi fare questo tipo di investimenti ci sembrava ragionevole e questo ci sembrava è così vero che tutte le regioni hanno sposato questa impostazione e lo stesso mas e dopo di che questa impostazione quindi che l'altro non era che dare una quarta opzione si è scontrata con quei vincoli che dicevamo i balneari se posso senatore non c'entra assolutamente nulla perché appunto i balneari completamente diversi in un contesto diverso eccetera sui vulnerabili allora il superamento della maggior tutela non sta a noi dire se era il momento se era da farsi il superamento do solo qualche informazione la superamento della maggior tutela alcune delle come dire figure che le citava sono state escuse perché come sapete circa 4 milioni di persone i cosiddetti vulnerabili sono state escuse dopodiché il prezzo del gas allora oggi chi si trova a pagare un prezzo e qui voglio essere molto chiaro chi si trova a pagare oggi un prezzo del gas o dell'energia superiore rispetto al mercato coloro i quali hanno sottoscritto un contratto a prezzo fisso però ci sono due caveat primo l'attuale regolamentazione fa sì che in ogni momento io possa uscire da questo contratto per cui siccome lei è esperto può uscire tranquillamente due 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 non tutti si dimenticano che quei signori che hanno fatto un prezzo fisso durante il periodo della crisi come voi sapete si sono trovate a volte a pagare un quinto di conquinto rispetto a quello che si diceva prima quindi la supersintesi è dobbiamo fatto salvo la scelta del superamento della maggior tutela che non sta a me non sta a noi giudicare dobbiamo essere consapevoli che comprare energie elettriche e gas è alla stessa stregua di comprare denaro cioè quando io vado a fare un mutuo scelgo io se faccio fisso o variabile sull'energia elettrica è la stessa cosa vantaggi e svantaggi ci sono il mercato libero offre questo questa è un po' la sintesi altro quello dobbiamo fare noi non lo c'è la rera che controlla quando ci sono delle anomalie c'è la rera che controlla i prezzi su questo punto c'è la rera che controlla i prezzi su questo lo confermo l'amministratore delegato di Enel Italia insieme al dottore a Carino e al Massimo Raffa grazie grazie a voi che ci avete portato per questa nostra audizione e che certamente sarà utile quando arriveremo ad una risoluzione magari forse ci risenteremo su dettagli più precisi per la risoluzione grazie e buona continuazione grazie a voi grazie a voi